Sta facendo discutere in città il parcheggio provvisorio realizzato in centro storico dal comune in Viantinori, a posto della palestra battuta e ricostruita. Il comune già da tempo aveva individuato quell'area come parcheggio provvisorio, le telecamere di rete 8 già c'erano state, ma il dibattito si è riacceso perché Massimo Prospero Cocco, che coordina le associazioni di disabili del capoluogo, si chiede che fine abbia fatto il progetto dopo di noi dedicato ai disabili e per il quale si era tanto impegnato il consigliere comunale recentemente scomparso, Adriano Perrotti. Sta facendo discutere perché quell'area era stata individuata proprio per realizzare quel progetto con la vecchia palestra da demolire e ricostruire. A disposizione c'erano 4,3 milioni di euro che lo stesso Perrotti si era impegnato a trovare, come si spiegava. Alcuni hanno nel tempo ritirato le donazioni, a quanto pare altri fondi sono stati usati per il parco giochi di Via Lerendina, ne restano 1,2 di milioni di euro. Certo è un problema grossissimo perché sinceramente sono ormai troppi anni e diciamo stamattina riflettevamo che fidarsi è bene ma non fidarsi probabilmente in questo caso è meglio. Ci sono 1.200.000 euro a disposizione trovati da Adriano Perrotti nel 2009 per questa cosa. Dove sono andati a finire adesso non lo sappiamo. Non è che l'hanno rubato assolutamente però nelle varie pieghe dei bilanci del comune andrebbero rapidamente ritrovati. Il problema di Via Antinori è un problema importante. Io spero che non sia un parcheggio provvisorio ma ho i miei dubbi sinceramente permettetemi di esprimere molto forti sul fatto che sia provvisorio perché un parcheggio così non si fa in maniera provvisoria. Ora vedremo quello che succede e noi staremo addosso sicuramente non molleremo la presa su questo. Il comune dal canto suo assicura che i parcheggi saranno solo provvisorie. L'assessore Bignotti spiega che saranno presto operativi da inizio 2022 due appartamenti in via Filomusi Guelfi per il dopo di noi e successivamente anche altri appartamenti del progetto case di Sant'Antonio.